Il controller non si connette direttamente su FIFA 25 ovviamente se è proprio un problema temporaneo che stanno cercando di risolvere su FIFA 25 allora aspettiamo se invece è proprio un problema sul nostro computer e allora andiamo a risolvere direttamente sui nostri dispositivi e le nostre periferiche. Quindi in questo caso andiamo un attimo su dispositivi impostazione dei dispositivi prodotti di altro tipo prova così ad aggiungere dispositivi quindi prova prima a rimuovere disconnettere del tutto il tuo controller ed eccolo qua il mio Xbox 60 per Windows faccio direttamente rimuovi e basta e rimuovo se invece un controller bluetooth disconnetti proprio quel controller e fai aggiungi dispositivo vai attraverso bluetooth oppure schermo wireless o dock. Quindi io una volta disconnesso così il mio controller disconnetto anche la chiavetta wireless perché è un controller wireless riconnetto di nuovo la chiavetta wireless ed eccolo qua Xbox 60 per Windows. Ora sul computer il controller è connesso molto bene andiamo un attimo su gestione dispositivi tasto destro su start gestione dispositivi. Se ti esce tipo un triangolo giallo su queste periferiche qua tipo controllo Xbox 60 oppure human interface device tipo dispositivi di input USB tipo per esempio qua è connesso mouse tastiera sono connessi altri dispositivi sul tuo computer e se c'è invece un triangolino giallo vicino a questi vuol dire che quello è il controller che non funziona molto bene. tasto destro sopra aggiorna driver cerchi da un elenco di driver disponibili ed ecco lo dispositivo di input USB fai avanti e installi così i driver sul tuo dispositivo. Quindi vado direttamente sul mio controller aggiorno ai driver cerchi da un elenco di driver disponibili faccio qua faccio avanti installo così il driver riavvio il mio sistema operativo entro su FIFA e vedo se mi funziona il controller. Perché se non dovesse funzionare allora è proprio un errore temporaneo che stanno aggiustando quelli delle electronic cards su FIFA 25 perché stanno già avendo problemi a trovare le partite il negozio non funziona il controller non si connette il gioco l'hanno rilasciato così. Tutti questi errori facciamono e chiudiamo qua ora in questo caso vai direttamente a scrivere qua sopra controller configura dispositivi di gioco USB e assicurati di inserire il tuo controller qua sopra su avanzate ed eccolo qua. Se qua non è inserito devi inserito devi inserire il tuo controller periferico preferito quindi sul tuo sistema il controller è connesso ed è pronto a funzionare. Su proprietà invece puoi vedere i test quindi puoi testare il tuo controller e vedere se funziona molto bene ed eccolo qua. Ora in descrizione ti ho lasciato così una pagina che ti porterà sull'applicazione che si chiama PlayStation Accessories se stai usando un controller della PlayStation grazie a questo programma ma tu puoi connettere il tuo controller quindi connetti il controller al PC via Bluetooth o cavo USB e andrà sicuramente al 100%. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. Grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao